Certo che ero bello e figo, ma adesso? Bello no ma figo, figo e interessante e anche un po' coglione. Proprio a quei due dobbiamo andare a spingere, tu non ti fai mai azzato, mai, mai! Se quello che c'è scritto in questa denuncia è vero, dobbiamo avvertire subito Altieri, è in pericolo. No, è stato già difficile convincere lei, professor Dorati, dall'esistenza di certe cose, visto che la loro comprensione non è facile. Già, ma se solo avessi immaginato quale opera si nascondeva dietro quella crosta, non l'avrei mai lasciata la contessa principale. Ho scoperto che sei uno sciupa femmine, non è così? Pensa che la mia ex moglie non si è mai rassegnata. No, poverina. Sai che cos'è Viviana? È che ci sono molti uomini a cui piacciono le donne, ma sono pochi quelli che amano le donne. E che cosa vuol dire? Non lo so. Alessandra, senti, mi puoi prestare delle 100.000 lire che devi comprare dei franchi francesi? Alessandra, ho fatto anche il roulò di pesce. Perdone-moi. Si, that place, over there, that's where I met the boo-boo and I got married. Beautiful girl, young, hot-headed, always wanting to make love. So, but me, always traveling around and never around. So, one day I came back home and she's not there anymore. That's the way the cookie crumbled. C'era bisogno di farvi un'equil caffone con la chitarra? Guarda che lo paghi tu, eh? Guarda, il maestro per fare una cortesia a me è venuto gratis. Sì, con che la giacca? Comunque caffone ci sarai tu e la cucina tua. Guarda che il mio lavoro lo so fare e bene. Fatti, chi viene non torna più. Ma che dici che quelli che vengono sono tutti clienti abituali? Infatti hanno preso l'abitudine di non venire. Un giorno io sarò sulla guida Michelin. Dal gommista. Buongiorno dottore, disturbo? Prego, prego, si è comodi. Volevo comunicarle per ora solo informalmente che ho accettato la procura della difesa di Enzo Tortora. Non esistono delle prove inconfutabili a Carlo Tortora. Sì, perché noi dobbiamo innanzitutto attaccare Pandico e cercare di lavorare su questo fatto della sua credibilità. Questo è uno psicopatico riconosciuto come tale. Poi c'è il Melluso, poi la questione Castellini-Margutti e poi questa famosa agendina di Puc. La lettera è scritta dal Pandico direttamente. E il testo della lettera è esattamente corrispondente a un atto di costituzione di parte civile notificato dal Pandico in relazione al delitto da lui commesso nel comune di Liveri di Nola. E gli chiedo ancora, si tratta dello stesso barbaro? No, 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 no. C'è Sì, chiamati. Mi chiamati? Ci chiamati? Ci chiamati? Sì, chiamati a tutti. Sì, chiamati anche voi? Sì, chiamati a tutti. Sì, chiamati a tutti. Sì, chiamati a tutti. Hai ragione con il tuo figlie gigolo? Do you want to see it? Seconder butner Grazie Shit pure Signore, ho abbiamo questa ricetta? Aus mio supermercio Ah, basilico di bojtoni Ma non dovete in Italia essere Che per il italiano Ciò che possa geniù no i have one must have one close-up on you yes but you need to go low and wide you have to give us some power when the dragoons attack sundial senior i am the director no director that commands the most respect Non c'è vita, non c'è paura, non c'è niente. C'è una porcheria!